Finalmente è giunta l'ora! Ebbene sì, in questo video inizieremo finalmente a trattare l'argomento espressioni regolari. Buona visione! Il Perl ha un ottimo supporto per le espressioni regolari, dette anche Regex. Pensate che il Regex Engine, che poi non sarebbe nient'altro che il pezzo di software integrato nel linguaggio che gestisce per l'appunto le espressioni regolari, di questo linguaggio è talmente potente che in molti considerano le espressioni regolari un micro linguaggio del Perl. Questa è infatti una delle feature, se non la feature, che ha reso popolare il linguaggio. Nonostante molti linguaggi odierni, per non dire tutti, offrano un supporto per le espressioni regolari, il buon vecchio Perl resta sempre una spanna sopra gli altri, per la sua potenza e flessibilità. Prima di iniziare è fondamentale sapere che le espressioni regolari nel Perl o trovano una corrispondenza o non la trovano. Non esiste una cosa come la corrispondenza parziale di una stringa. Verrà considerata corrispondente esclusivamente la parte della stringa partendo da sinistra equivalente al pattern. È fondamentale saperlo perché il regex engine di altri linguaggi può funzionare diversamente. La forma più semplice di pattern è la sequenza. Per comporre una sequenza basta scrivere un carattere dopo l'altro per indicare che si vuol trovare quella precisa sequenza di caratteri in quel determinato ordine. Nell'esempio si cerca la sequenza Luca all'interno della frase contenuta nella Perl Favorite Default. I forward slash, se contenuti all'interno di un controllo if, indicano l'operatore match. Questo operatore applica il pattern inserito fra gli slash alla stringa contenuta nella Perl Favorite Default, restituendo true se trova una corrispondenza, altrimenti false. Ma come viene cercata una corrispondenza all'interno di una stringa? Scopriamolo insieme. Partendo da sinistra della stringa si prendono tanti caratteri quanti la lunghezza del pattern e si comparano con la sequenza. Se i caratteri in posizione corrente sono uguali ai caratteri della sequenza, l'operatore match restituisce true, poiché ha trovato una corrispondenza, altrimenti si sposta di una posizione la posizione corrente e si effettua nuovamente la comparazione caratteri pattern, fin tanto che non si trova la corrispondenza che stiamo cercando. Quindi Luca è composto da quattro caratteri e quindi si partirà dai primi quattro caratteri della stringa. In posizione 0,3 della stringa si trova Xiao, Xiao è diverso da Luca, allora ci si sposta di una posizione. In posizione 1,4 si trova Yao più spazio, Yao più spazio è diverso da Luca, allora di nuovo più 1 alla posizione e così via fin tanto che non viene trovata la corrispondenza. Quindi se la sequenza Luca viene trovata, l'operatore match restituisce true e viene stampata la stringa corrispondenza trovata, altrimenti se non viene trovata alcuna corrispondenza, l'operatore match restituisce false e si stampa in output la stringa nessuna corrispondenza trovata. Eseguiamo lo script e come previsto la sequenza Luca viene individuata correttamente all'interno della stringa. È importantissimo sapere che il pattern inserito all'interno dell'operatore match viene considerato in contesto double quoted, quindi sul pattern è attiva l'interpolazione. Nell'esempio si cerca la corrispondenza nella Perl Favorite Default con la sequenza o spazio New Line A. Eseguiamo lo script e in output abbiamo corrispondenza trovata poiché la sequenza o spazio New Line A viene correttamente interpretata ed individuata. Guardate un po' cosa succede se si disabilita l'interpolazione della stringa nella frase contenuta nella Perl Favorite Default. abbiamo in output nessuna corrispondenza trovata. Questo accade poiché il New Line contenuto nella Perl Favorite Default non viene interpretato e quindi al posto del New Line abbiamo backslash n, mentre il pattern che come abbiamo detto è in contesto double quoted, quindi con interpolazione attiva interpreta backslash n come New Line e non trovando così alcuna corrispondenza restituisce false. Altro esempio dove si inserisce comodamente la nostra sequenza all'interno della variabile pattern. Quindi la variabile pattern viene interpretata e viene così cercata la sequenza bella all'interno della Perl Favorite Default. Eseguiamo lo script e in output abbiamo il nostro messaggio che ci avvisa che la sequenza bella è stata trovata nella stringa che bella giornata oggi. Sapete che c'è un pattern che corrisponde a qualsiasi tipo di stringa? Si chiama Zero Chart Sequence e come suggerisce il nome è composto o meglio non è composto da alcun carattere. Infatti se eseguiamo lo script corrispondenza trovata. Se così a colpo d'occhio può sembrare inutile in realtà in alcune situazioni può invece risultare utilissima. Nell'esempio si utilizza la funzione split passando come primo parametro l'operatore match vuoto e successivamente la variabile msg. Come abbiamo detto la Zero Chart Sequence trova corrispondenza in qualsiasi tipo di stringa quindi risultato la stringa contenuta in msg viene divisa carattere per carattere e ogni carattere stampato in output dal ciclo for each. Altra caratteristica delle regex è che di default sono case sensitive quindi fanno distinzioni tra caratteri maiuscoli e minuscoli. Eseguiamo lo script ed infatti abbiamo in output nessuna corrispondenza trovata poiché Gianni minuscolo è diverso da Gianni maiuscolo contenuto nella perle favorite default. Ma se si cambia Gianni minuscolo con Gianni maiuscolo e si riessegue il tutto corrispondenza trovata poiché Gianni maiuscolo è uguale a Gianni maiuscolo. Quando si vuole utilizzare una stringa contenuta in una variabile oppure una costante stringa bisogna utilizzare il binding operator che è questa cosa qua. Serve specificarlo solamente se la variabile non è la perle favorite default. Il binding operator è composto da un uguale più una tilde e serve a stabilire un confronto con l'espressione regolare inserita alla sua destra. Se non si specifica il tipo di operazione della regex di default viene considerata match ovvero l'operatore o meglio l'operazione che abbiamo utilizzato in tutti gli esempi in questo video. Infatti se eseguiamo lo script corrispondenza trovata. Più avanti vedremo anche le altre operazioni disponibili. Tranquilli tempo al tempo. Se volete esercitarvi vi lascio il pattern tester che ho scritto per voi nel link in descrizione insieme ad alcuni esercizi che vi aiuteranno a prendere confidenza con le espressioni regolari. Vi consiglio vivamente di scaricarlo e di fare pratica lezione per lezione poiché è il modo migliore per familiarizzare con le regex. Detto ciò direi che pure per questo video è tutto. Per qualsiasi domanda vi invito come al solito a lasciare un commento. Alla prossima!